Sergio, iniziamo con te. Lo dicevo prima, noi stiamo lavorando senza sosta per far sì che a breve sia presentata una proposta di legge 151, per come noi la chiamiamo per intendersi, quindi ti chiederei a che punto siamo e diciamo lo stato dell'arte. Lì c'è il microfono, credo. Sì, vieni qua, vai. Sì, perché quando parlo di legge 151 non riesco proprio a tenere un tono del tutto professorale o tecnico perché spicca sempre di più che in questo museo del ventunesimo secolo, con 43 milioni di persone che hanno lo speed e 16 milioni l'app io, noi viviamo ancora dentro una regolamentazione che risale al secolo scorso, e che già era vecchio al secolo scorso. E quindi comincio intanto ringraziando Francesco che conferma una volta di più quello che diceva Pietro Nenni, le idee camminano solo sulle gambe degli uomini, non c'è nessuna idea, nessun concetto che cambia la realtà, se non l'impegno costante e quotidiano, l'umiltà di raggiungere dei risultati con la continua abitudine anche a incontrare e raggiungere dei compromessi, sapendo che però gli obiettivi non possono essere un compromesso ennesimo sulla pelle di un'amministrazione italiana che oggi è chiamata ad essere il motore dello sviluppo. Il percorso che delinea Francesco per il futuro lo trovo convincente e dà spessore e solidità ai risultati già ottenuti. Siamo con una legge 151 in cammino, in cammino anche più veloce di quel che sembra. E io sento obiettivamente l'emozione e la gratitudine per una comunità che sta per toccare con mano l'esito di un lavoro collettivo in cui con Francesco, con Mario e con altri io ho pensato, scritto, corretto, riscritto, ampliato, ridotto qualcosa che non veniva dalle nostre idee soltanto ma dal mondo reale, dalla professione e dalla passione civile di tutti voi e di tutti coloro che ci stanno seguendo adesso online. La legge 151 non nasce in un convegno, questo è il punto chiave, né in un ufficio legislativo. Nasce negli anni in cui i giornalisti e i comunicatori che non si sono rassegnati all'estinzione sceglievano questa nuova dimensione del digitale come una grande opportunità. Capivano che il digitale non è una tecnica, è un nuovo modo di segnare i rapporti fra le persone e la vita sociale. La democrazia delle piattaforme è una svolta storica, equiparabile alla stampa a caratteri mobili del 400, alla rivoluzione industriale dell'800. A chi non capisce questo è indietro rispetto al buonsenso, non rispetto alla legislazione. E di fronte a tutto questo la galassia di Pia Social decideva di non rinchiudersi nelle sue sigle, nelle sue federazioni e nelle sue aule universitarie. Di non illudersi che il mondo esterno resta fermo giusto per fare un piacere a noi, per la retorica dell'articolo 21 o per le cartoline dei fasti del compa di Bologna che fu. La legge 150 è la madre di tutte le battaglie, se non ci fosse non saremmo qui. Però è anche una legge che io ho sempre definito affettuosamente la legge comunicati e sportelli, perché di fatto quello limita la comunicazione. È amaro dirlo, persino offensivo per chi lavora in questo settore, ma è una legge comunicati e sportelli. Allora, la comunicazione pubblica scompare dai radar? Non fa nulla. Applichiamo la legge comunicati e sportelli. Ti crolla addosso l'impgi? Non fa nulla. Applichiamo la legge comunicati e sportelli. Questa è stata la logica delle sigle e delle associazioni che oggi poi si rammaricano dell'assenza di qualsiasi riferimento alla comunicazione nel PNRR. Eppure nel frattempo nasceva una possibilità inedita nella storia dell'umanità, che è l'interattività, l'ingresso in un sistema paritario dove chi sta dall'altra parte diventa importante come te e spesso più di te. Lo ha detto Jill Abramson, la prima donna che ha diretto il New York Times. Per ogni notizia che pubblichiamo emerge dalla rete sempre un lettore che ne sa più di te. A noi questo sembra un vantaggio, anche un rischio, però anche un grandissimo vantaggio, una grandissima opportunità. Per qualcuno è un grandissimo pericolo. Qui è tutta la differenza tra chi lotta per una nuova legge che apre il digitale e chi invece l'avversa. Perché il problema non è tanto di sociologia, di media morfosi in cui io ne so un milionessimo di quanto ne può sapere Mario. È un problema oggettivo, pratico, manageriale. La pubblica amministrazione italiana è una pubblica amministrazione fatta di separazioni. La legge 150 è la legge della separazione in casa tra giornalisti e comunicatori. Invece noi, mi permetto di dire questo, abbiamo capito una cosa fondamentale. Con il banale, con il digitale, la comunicazione, la trasparenza, la customer satisfaction diventano una cosa sola. Non sono settori separati che possono gestire professionisti separati. Sono lo stesso, sono i pezzi di una stessa filiera. Ecco perché la riforma diventa una opportunità che ci consente di entrare nella nuova epoca. È proprio la pandemia che ci ha fatto capire che siamo davvero a cavallo di due epoche e non siamo di fronte ad una legge, su questo insisto, ecco perché sono così appassionato. Non è un problema soltanto di una norma, è un problema di entrare nella nuova epoca con gli strumenti giusti. Noi abbiamo già un come eravamo alle nostre spalle, che era fatto per esempio dall'Europa contabile, dall'Europa lontana dalle persone, dall'amministrazione italiana basata soltanto su uno scambio immorale fra stipendio basso e assenza dei controlli, le pause pranzo, la lobby del tramezzino all'ora di pranzo, il traffico, la PA Bancomat che veniva usata soltanto per sottrarre, per ottenere dei liquidi e quindi il blocco del turnover, l'umiliazione del blocco della formazione. Questa pubblica amministrazione ingoiava le sue stesse riforme perché questa stessa pubblica amministrazione ha fatto il codice dell'amministrazione digitale, la trasparenza, la performance, ma sono riforme senza cittadini, riforme rimaste sulla carta che hanno permesso solo di creare qualche ufficio in più. Ecco, l'Europa del whatever it takes e la tecnologia hanno completamente dischiuso un altro mondo che noi adesso abbiamo davanti e che viviamo tutti i giorni. Il lavoro, le relazioni, l'istruzione, il commercio, persino le elezioni e il referendum si possono fare online. Abbiamo capito che la dimensione online è un altro modo di vivere, in certi casi più democratico, chiaramente meno costoso e più immediato di altri che si basano esclusivamente sull'incontro in presenza. Nella politica abbiamo un ministro che dice che la comunicazione pubblica è l'essenza dei servizi pubblici e che dice che lo smart working deve essere legato alla customer satisfaction. Abbiamo un PNRR che dopo le riforme, reclutamento, semplificazione, arriva a darci una possibilità inedita, anche in questo nell'amministrazione italiana, abbiamo 15 certificati gratis e con un click. Abbiamo il portale INPA, il portale per il reclutamento per il PNRR che nasce da un accordo con LinkedIn. Abbiamo Linea Amica Digitale, il progetto che ho l'onore nel Formez di rilanciare dopo alcuni anni di silenzio che si basa su un chatbot, sull'intelligenza artificiale che si evolve verso l'Alexa dell'APA attraverso un accordo con Amazon. Questo si sta muovendo e noi siamo ancora a dover reclamare un'identità professionale. Nei contratti pubblici abbiamo di fronte una grande opportunità, facciamo il solito scambio 100 euro per tutti in cambio di niente o facciamo un investimento su chissà di più. Ecco perché siamo arrivati ad uno snodo, ad un bivio fondamentale. Il digitale diventa non più un mezzo ma un luogo, un luogo, un ambiente, uno spazio dove l'interazione diventa la regola e l'obiettivo. Cosa fa Pia Social in questo luogo? Ripete, semplicemente una banalità che proprio perché è un luogo nuovo, è un luogo che si presta dei rischi. Il famoso hate speech, le fake news, un uso improprio del mezzo e il digital divide. A gestire questo mondo servono i professionisti. Questa è la semplice equazione di Pia Social. C'è un nuovo mondo, serve chi lo sa gestire. E chi lo sa gestire se non chi si è formato su questi temi, non è nato, perché la nostra età media purtroppo non è 28 anni. Si è formato, ha avuto l'umiltà di farlo, ma oggi lo sa fare. E quindi abbiamo l'anagrafe, l'app digitale, lo speed, lo stesso Green Pass che ci permette di stare qui, è un'applicazione digitale. Arriviamo dal digital divide al digital only, al famoso obiettivo di tutte le amministrazioni degli ultimi 15 anni. Arriviamo a quella che Francesco ha definito concretezza, semplicità. Il digitale è scelta delle persone, vantaggio delle persone, la scelta della vita semplice, la scelta di poter arrivare ad un tempo reale che va a tutti, perché io voglio vivere in tempo reale, la mia vita in tempo reale. Non posso più aspettare i tempi di uffici che hanno bisogno di passaggi burocratici eterni, che non pensano mai al mio interesse. Ed è tutto questo nella 151, la riforma dell'epoca nuova. La riforma che nasce da un gruppo di lavoro ministeriale a cui hanno partecipato tutti, quindi una riforma di tutte le organizzazioni e di tutti i partiti, in cui c'è l'esperto digitale, l'area unificata, la trasparenza, la customer, il monitoraggio, la valutazione e l'apertura dell'ordine dei giornalisti. Concludo. Io ho citato di recente una frase che mi piace molto di un sociologo filosofo come Henry Bergson che diceva che la comunicazione funziona solo quando, oltre al messaggio, trasferisce un supplemento di anima. Ecco perché io credo che senza questa passione tutte le nostre competenze non servono a niente. Nessuno di noi dimenticherà la pandemia che ci costrinse a guardare noi stessi come persone e non più solo come pezzi di un ingranaggio. Io, io, non dimenticherò, voi, non dimenticherò le nostre chat dove colleghi con ritmi, procedure e stipendi da statale, con ritmi, procedure e stipendi da statale diventavano inviati di guerra, senza limiti di tempo, di festa e di orario, né di mandato né di obiettivi. L'unico fine era fare bene, dare un servizio a cittadini rinchiusi, impauriti e isolati. Ne parlo nel volume che oggi Livio Gigliuto presenterà, cosa è cambiato nella pandemia e in questa trincea dei comunicatori e dei giornalisti pubblici. Mi venne in mente Pia Social, vi confesso una cosa personale, mentre guardavo le immagini di Papa Francesco solo in una Roma livida che sembrava quasi in un mondo alieno. Francesco parlava come noi parlavamo, come voi parlavate, spiegava, rassicurava, cercava di rendere la casa opaca dello Stato, non solo di vetro come aveva auspicato in anni lontani Filippo Durati, ma di più la casa di tutti, la casa in cui io mi sento davvero un cittadino. Oggi che l'Italia risale l'indice desi, oggi che le armi degli analogici sono spuntate e devono ricreare di continuo nuovi nemici. Per esempio, si legge ormai dappertutto che l'elite mondialista non sforna soltanto microchip da iniettarci con la scusa del vaccino, ma anche il metaverso di Zuckerberg, ecco il nuovo grande pericolo, come fossimo per sempre e sempre eterni alunni, eterni sudditi di una matrix che si rinnova di continuo. Ancora non hanno capito questi grandi profeti della paura che siamo capaci di gestire le nuove tecnologie, ma proprio perché abbiamo dei professionisti che lo sanno fare, che sanno aiutare chi può finire in questo vortice. Non siamo bambini che vanno tutelati dall'eccessiva esposizione a un network. La riforma digitale della comunicazione è una navicella che è in mare, va dalla parte giusta del mare. Tra qualche giorno speriamo di dare un annuncio di un primo approdo. È una legge nostra che vuole dare allo Stato un volto, finalmente amico. Amico come siamo amici noi. Perché senza la fiducia, una fiducia permanente confermata dalla cultura del servizio, dall'orgoglio della missione pubblica, il nostro sviluppo sarà solo un rimbalzo. Per questo, a me che sono, e si è capito forse dalle citazioni che faccio, un riformista, permettete di dire che è solo l'inizio. Se ne è un début, continuiamo il combat. Grazie. 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 Grazie.